Ciao a tutti e ben ritrovati. In questo video fornirò dei concetti introduttivi alla geometria solida. Ma cosa studia questa parte della geometria? Studia tutti quegli oggetti del vissuto quotidiano. Se ci guardassimo intorno, troveremmo solo oggetti tridimensionali, un libro, una penna, la scrivania. Questi oggetti, in geometria solida, si definiscono solidi geometrici o semplicemente solidi, cioè figure geometriche sviluppate in tre dimensioni, lunghezza, larghezza e profondità. Guardiamo ad esempio queste due figure geometriche. A sinistra c'è una figura che conosciamo tutti, il cubo. A destra abbiamo una figura piana, anche essa abbastanza conosciuta, il quadrato. Una figura solida si capisce subito che differisce rispetto a una figura piana, in quanto quest'ultima possiede due soli dimensioni, larghezza ed altezza, cioè si sviluppa a livello di un piano. La figura solida, invece, oltre alle due dimensioni viste prime, ne possiede un'altra, la profondità, cioè si sviluppa in tridimensionale. Quindi, in geometria, un solido è una figura geometrica formata dagli insiemi di punti compresi in una porzione di spazio tridimensionale. Poiché i solidi sono figure geometriche molto rappresentate, quindi, nella vita quotidiana, come abbiamo visto prima, i matematici si sono posti il problema di voler classificare in modo organizzato questi elementi. Ci sono varie classificazioni fatte negli anni che permettono di raggruppare i solidi in insiemi, i cui elementi condividono delle proprietà comuni. La prima classificazione generale suddivide i solidi come segue. Da una parte abbiamo i poliedri, cioè tutti quei solidi che sono delimitati da poligoni. Dall'altra parte ci sono invece i solidi a superficie curva, cioè quei solidi la cui superficie è anche o in parte curva. Un sottogruppo di quest'ultima tipologia è rappresentato dai solidi di rotazione, cioè quei solidi a superficie curva originati dalla rotazione di una figura piana evidenziata con un colore più marcato, quindi dalla rotazione di una figura piana attorno a un'asse di rotazione, che può essere per esempio il lato nei primi due casi o il diametro nel caso del semicerchio. Quindi queste figure piane ruotando a 360 gradi intorno al loro asse di rotazione determinano questi solidi di rotazione, ma di questi elementi ci occuperemo in un video apposito più avanti. In questo video invece ci occuperemo per lo più della classificazione dei poliedri e vedremo le principali proprietà che caratterizzano questo tipo di solidi. Partiamo dalla definizione geometrica. Cos'è un poliedro dal punto di vista geometrico? In linea generale possiamo dire che si definisce poliedro un qualsiasi solido delimitato da poligoni che giacciono su piani distinti e tali da avere ogni lato in comune con un solo altro poligono. Vediamo questi aspetti proprio graficamente, analizzando punto per punto la definizione. Un poliedro è un solido, quindi una figura geometrica tridimensionale. Delimitato da poligoni posti su piani diversi. Immaginate di disegnare dei piani passanti per ciascuna faccia del poliedro. Ve ne ho rappresentati alcuni, non tutti e sei, per farvi vedere la situazione. Quindi questi sono solo quattro, ribadisco, dei sei piani passanti per i sei poligoni del cubo. Quindi tutti questi poligoni sono posti su piani diversi, sei poligoni, sei diversi piani, e disposti in modo che ogni lato di un poligono sia comune al lato di un altro poligono. Questo lato del quadrato evidenziato in verde è comune a questo poligono e quello laterale. Se consideriamo, scusate, quest'altro lato è comune al poligono verde e al poligono posto in alto. E via dicendo, questo vale per tutti. Quindi, se valgono tutti questi aspetti, il solido viene definito poliedro. A questo punto richiamiamo ora i nomi dei principali elementi che caratterizzano un poliedro. La faccia è appunto ogni singolo poligono che costituisce il poliedro. Quindi non viene chiamata più poligono, ma faccia. Gli spigoli in geometria piana sono l'equivalente del lato. Quindi non si chiamerà più lato, ma saranno spigoli del poliedro. I vertici, analogamente alla geometria piana, cosa sono? Ne ho segnato in rosso 1, ma tutte le lettere contrassegnano dei vertici. Sono dei punti in cui convergono almeno tre facce. Le diagonali sono dei segmenti che uniscono due vertici opposti, come avviene anche nel caso delle figure piane, ma in questo caso il segmento rappresentato in fucsia stabilisce, sì, la diagonale, ma che congiunge vertici opposti, ma in aggiunta questi vertici appartengono a facce diverse. E alla faccia posteriore del poliedro, B appartiene alla faccia colorata in verde. Quindi sempre un segmento che congiunge due vertici opposti, ma posizionati su facce diverse. Il poliedro, ho fatto un esempio, ho preso come esempio due facce, ma vale per tutte le coppie di facce del poliedro, è quella porzione di spazio compresa tra due facce che hanno in comune uno spigolo. In questo caso lo spigolo è EH. Infine, l'angoloide è quella regione di spazio delimitata da tre o più facce. Io ho preso come esempio F come vertice e quindi la regione di spazio delimitata, a partire da F delimitata da tre facce, rappresenta l'angoloide. Una prima classificazione che si può fare con i solidi riguarda la proprietà di convessità, cioè stabilire se un solido sia convesso o meno. Come si fa a stabilirlo? Un solido si dice convesso se il piano di ogni faccia non interseca mai il poliedro. Diversamente si dice concavo. Potete vedere chiaramente, qui è rappresentato un piano alfa, ma se lo immaginassimo di disegnare dei piani per ogni faccia, sarebbe evidente che nessun piano interseca mai il poliedro. Diversamente da quello che succede nel caso di questa faccia quadrata posta davanti a noi, il piano esiste almeno un piano che passa per questa faccia che interseca il poliedro dividendolo in due parti. Poliedri di questo tipo si dicono concavi. Ogni poliedro può essere ulteriormente classificato in base al numero delle sue facce. Se possiede quattro facce si chiamerà tetraedro, cinque facce pentaedro, sei facce esaedro, via dicendo. Nell'insieme a destra sono rappresentati tutti i poliedri regolari. Sono solo cinque e vengono anche definiti poliedri platonici. Tutti gli altri poliedri sono poliedri irregolari. Cos'è un poliedro regolare? È un poliedro in cui tutte le sue facce sono poligoni regolari congruenti tra loro. Facciamo un esempio più pratico. Consideriamo il tetraedro, l'ottaedro e il dodecaedro. Questi sono delimitati da poligoni regolari, nello specifico triangoli equilateri, che sono equilateri, cioè hanno i tre lati di uguale lunghezza, e anche equiangoli. Quindi i tre angoli del triangolo sono di ampiezza uguale. Nel tetraedro avremo quattro triangoli equilateri congruenti. Otto nell'ottaedro, dodici nel dodecaedro. Nel caso dell'esaedro il poligono regolare è il quadrato, nel caso dell'icosaedro il poligono regolare è il pentagono. Quindi abbiamo venti pentagoni regolari e congruenti tra loro. Al di fuori di questo insieme i poliedri non sono più regolari, ma si definiscono irregolari. Quindi possono avere figure piane diverse tra loro, ma sicuramente non congruenti. Un'importante proprietà dei solidi fu formulata nel 1751 da Olero, un matematico e fisico svizzero. Egli trovò una relazione che accomunava tutti i solidi geometrici e che metteva in relazione il numero delle facce con quello dei vertici e degli spigoli, nel modo che vi farò vedere a breve. Prima di vedere questa relazione andiamo quindi a contare queste tre parti dei solidi. In alto c'è la leggenda in cui viene specificato ogni simbolo a cosa corrisponde. Quindi andiamo a contare il numero delle facce. Farò l'esempio del primo poliedro, gli altri due li verificherete da soli. Andiamo a contare il numero delle facce, che verranno evidenziate in colore, e sono quattro. Fate la stessa cosa per gli altri poliedri. Dovete immaginare di ruotare il più possibile mentalmente i poliedri in questione, in questo caso è semplice, ho un collegamento, spero che si apra, da farvi vedere, per capire come muovere nello spazio una figura geometrica per vedere la sua rotazione. Qui è un parallelepipedo, come nella seconda figura, aperto nel piano. Lo chiudiamo, quello che dovete fare è immaginarvi di farlo ruotare o muovere per capire i suoi vari elementi. Bene, ritorniamo nella nostra slide. Andiamo a contare i vertici. Nel primo esempio vi do dei numeri successivi per gli altri. Andiamo a contare gli spigoli. Li evidenzio in rosso, sono sei. E vi do anche il numero degli altri da verificare. Quello che aveva notato Eulero era che il numero delle facce, insieme al numero dei vertici, era molto vicino al numero degli spigoli, a meno di una quantità. Quindi lui aveva trovato questa relazione che era comune a tutti i poliedri. Quindi la somma della faccia più i vertici dava un numero vicino al numero degli spigoli, a meno di una quantità che sembrava essere costante per i diversi poliedri. Formulò quindi questa relazione che sostiene che in ogni poliedro la somma del numero delle facce più il numero dei vertici è uguale al numero degli spigoli aumentato di 2. In questa slide vi vengono dati diversi poliedri contrassegnati da differenti lettere. Dovete per ogni riga analizzare il numero di facce, il numero di vertici, il numero di spigoli di ciascun poliedro e vedere se la relazione di Olero è verificata. Vi lascio un'ultima slide di sintesi di quelli che sono stati gli argomenti, una mappa diciamo di sintesi degli argomenti trattati in questo video. Ciao, alla prossima! Grazie! Grazie!